Ed eccoci finalmente alla prima vera lezione del corso di Educati e Casellati un corso che vi porterà da base 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 a super avanzati molto meglio dei vostri colleghi su Excel, quel programma che tutti in ufficio usano ma nessuno ammette di non saperlo usare in questo corso diventerete il guru di Excel prima lezione, la lezione sono sostanzialmente i preliminari no, non quelli che stai pensando tu, i preliminari con i dati e anche con l'utilizzo di Excel passiamo immediatamente a aprire Excel eccolo qui, salutiamo Excel eccolo qui, questo è Excel 365 che ho comprato per l'occasione voi potete come ho già detto in un'introduzione usare praticamente l'Excel che volete poiché sia dopo il 2003 per piacere potete anche usare Excel per il Macintosh se mi ricordo, sto facendo su Windows il corso se mi ricordo, le differenze col Mac le dirò se me le ricordo ok benissimo, vediamo subito cos'è sta roba che stiamo vedendo in questo momento Excel si apre qui innanzitutto un po' di nomi perché li userò poi più avanti nel corso ok questa barra che vedete qui in inglese si chiama Ribbon in italiano vediamolo, si chiama scheda è Ribbon il nastro in inglese in italiano si chiama scheda la cambiate cliccando qui vedete c'è la scheda home, la scheda inserisci, la scheda layout di pagina, formule, dati e bla 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 ogni tanto ne appaiono di nuove quindi vedrete ogni tanto degli altri nomi qui sono in blu per indicare che sono solo in quel momento che appaiono poi scompariranno sono di solito causa di inenarrabili bestemmie perché dici dov'è finito il Ribbon che stavo usando ecco io la chiamerò come si chiama? scheda devo abituarmi scheda e la barra multifunzione scusate giusto per mostra solo schede ah no le schede sono queste questa è la barra multifunzione già mi avete beccato ok quindi con questo apro le schede in realtà le schede sono una barra multifunzione è piena di bottoni di ogni tipo ma la cosa principale di Excel sono questa roba qui che vedete davanti a voi questa griglia questa è un foglio in inglese io dico spesso come si usano le cose in inglese perché magari qualcuno sta usando Excel in inglese in inglese si dice sheet mi raccomando con la i lunga sheet altrimenti è un'altra cosa ok normalmente Excel si apre con un foglio solo versioni precedenti di Excel si aprivano con tre fogli mi ricordo e qui la scritta è foglio è scritta nella vostra lingua nativa perché normalmente c'è sheet 1 mi ricordo queste ognuna di queste è una cella ok le celle si funzionano esattamente come a battaglia navale cioè c'è la lettera e il numero ad esempio questa cella dove sono adesso è la K9 e questa è la E18 affondata ok quindi se volete già abbiamo un utilizzo molto rapido potete giocare a battaglia navale a print do Excel e siete a posto top e potete aver finito il corso solo per questo il corso secondo me li vale 77 euro il suggerimento è giocare a battaglia navale con Excel ok quindi ogni cella ha un'indicazione di colonna con la lettera e di riga col numero le colonne vanno avanti fino alla B adesso vediamo prontamente fino alla XFD se vi chiedete come ho fatto a saltare fino in fondo dovete aspettare che faccia anche il corso base 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 di Windows che sono i segreti di chi usa Windows dagli anni 80 anzi dagli anni 90 quindi vanno dalla A alla XFD cioè quindi passata la Z vedete incominciano con A A A B A C e dopo fino alle XFD non ce ne sono di più perché proprio fino alle XFD perché c'è un limite penso che siano 65.000 non me lo ricordo 256 no 65.000 e perché proprio 65.000 e non 100.000 perché gli informatici amano contare in potenze di 2 ci sono anche le righe vedete una, due queste sono più facili perché i numeri vanno avanti e arrivano fino a 1.48.576 perché proprio questa perché è una potenza di 2 ok non si può andare oltre questo è un hard limit non c'è verso non sperate di andare oltre se usate versioni precedenti di Excel o salvate in un formato precedente le righe erano solo 65.000 le colonne soltanto 256 ok comunque ogni cella è identificata da questo incrocio qui c'è l'H5 qui anche se sembra una banalità qui e vedete H5 c'è il nome della cella vedete che banalità e vedremo quando cambierò i nomi delle celle vedremo che non sarà così banale ok qui invece è mostrato il vero contenuto della cella perché dico il vero contenuto qui perché ogni tanto la cella mostra una cosa ma sotto sotto ne ha un'altra sotto sotto ne ha un'altra benissimo abbiamo anche tanti fogli perché giustamente uno si fa la sua tabella poi ne vuole un'altra col più ovviamente si mettono i fogli oppure ecco qui foglio 2 ecco qui foglio 3 guardate da un foglio all'altro semplicemente col mouse e adesso spoiler una cosa fichissima tasto destro colore linguetta scheda ecco qui guardate potete colorare la linguetta del foglio utilissimo non sto scherzando è una delle funzionalità quando l'hanno introdotta ha svoltato la vita una delle funzionalità più utili colorare potete anche spostare il foglio ad esempio prendo il foglio 1 lo trascino lo muovo dopo il foglio 3 ecco qui quindi con il foglio si può fare più o meno quello che si vuole vedete avete anche il solito rinomina elimina inserisce uno nuovo sposto copia per motivi a me misteriosi sono nello stesso menu quindi io ho il foglio 1 scriviamoci qualcosa in questo foglio 1 adesso scrivo robe a caso ecco qui foglio 1 tasto destro sposto copia ok qui devo creare una copia altrimenti lui me lo sposta e basta ok potete spostarlo anche in un altro file io non capisco perché lo chiami cartella ecco lui c'ha il brutto viziaccio maledetto di chiamare il file cartella perché giustamente dice contiene dei fogli quindi più che una cartella non è e va bene ok vediamo altre cose interessanti qui visualizza codici non ce ne ferrà niente proteggi il foglio lo spiegherò ma è una roba ridicola nascondi questa è la cosa più cattiva che volete fare e subito anche un'altra cosa per il quale il corso già vale 77,77 euro voi potete nascondere i fogli che è uno scherzone che potete fare i colleghi il collega sta lavorando su un documento Excel che ha otto fogli voi prendete il foglio 2 tasto destro nascondi ecco lui non avrà nessun modo per sapere che esiste il foglio 2 arriverà qui e dirà no il foglio 2 è stato cancellato scena di disperazione voi arriverete lì farete arrivate qui tasto destro scopri foglio 2 perché mentre le celle e le colonne si possono anche nascondere ma c'è un indizio che si è nascosto e se nascondete un foglio non c'è nessun indizio quindi cattiveria totale benissimo quindi questi sono i fogli e questi si può selezionare ovviamente una cella singola un foglio intero cliccando in questo angolo qui ho selezionato il foglio intero una colonna intera cliccando sulla colonna un gruppo di colonne una riga intera un gruppo di righe banale 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 e adesso apriamo però invece chiudo questo e apro invece il file ufficiale ho creato un file magari lo cambierò durante il corso non lo so leggermente il file ufficiale che useremo durante il corso quindi chiudo Excel non salvare ecco qui ho riaperto il file si chiama educato casellato lo trovate in descrizione ha una piccola particolarità a me si è aperta senza problemi perché stava sul mio computer se voi aprite un file che avete scaricato da internet vi arriva qui una barra gialla con scritto vuoi veramente aprirlo attento contiene robe pericolose non fate come i miei studenti che schiacciavano X e togliamo la barra gialla no dovete rispondere ditegli sì va bene viene da fonte affidabilissima ok come vedete questo foglio è già dotato di una marea di schede si chiamano schede non mi ricordo mai inserisci vediamo se si chiamano schede no fogli di lavoro ok andiamo su primo non importa cosa vedete la cosa che voglio farvi vedere adesso è questa guardate io se vado su questo 4,41 voi vedete qua 4,41 nella barra della formula se però andate su questo 8,888 voi non vedete 8,888 perché questa cella non contiene in realtà 8,888 contiene una formula la mirate qui C6 più di 6 per questo vi ho detto prima solo qui vedete il vero contenuto guardate che capita che ogni tanto vedete una cosa che non c'entra una mazza con quello che è il vero contenuto e non solo formule anche altre casi quindi attenzione poi c'è una caratteristica molto interessante su Excel che è quella dell'autocalcolatore quindi se voi selezionate ad esempio dei numeri ad esempio seleziono questi numeri qui guardate qua sotto qua sotto adesso mi tolgo ecco qua sotto c'è media conteggio minimo massimo e somma conteggio è quante sono diverse da quante contengono un numero ad esempio seleziono questo dovrebbe essere ah no conteggio 6 quante contengono qualcosa fatemi verificare sì quindi se seleziono queste 6 celle di cui 2 sono vuote conteggio 4 media 11 minimo massimo e somma utilissimi non sto scherzando sono veramente utilissimi e probabilmente sul vostro vedrete soltanto somma se volete anche le altre andate qui tasto destro e in mezzo a questo marasma avete quello che può selezionare media conteggio conteggio dati numerici valore minimo valore massimo somma io li metto tutti tranne forse conteggio mettiamo anche conteggio dati numerici utilissimi tenerli tutti quindi questi qua questo è l'autocalcolatore devo dire funziona cioè è una delle cose che uso di più perché ogni tanto non ho voglia di farmi una somma seleziono tutta una colonna ecco qui mi dà la media della colonna dov'è 11,69 il valore massimo 18 ad esempio se la colonna è estremamente lunga volete controllare se avete i dati completamente fuori selezionate la colonna minimo massimo fatta ok quindi immediata benissimo già che ci siamo parliamo di a cosa serve quest'altra quella la casella nome che sono in mezzo ecco la casella nome che so già che vi siete messi a ridere come ho detto qui c'è la la e2 e6 ecco la casella nome serve per attribuire un nome a una cella ogni tanto può essere molto utile ad esempio supponiamo che io ci sia questa e7 che ha un significato particolare e io lo uso spesso ora io ogni volta devo fare e5 poi magari sono da un'altra parte e mi dico ma sarà e5 o era e6 o era f6 allora gli do un nome qui casella underscore che underscore uso underscore spesso ok adesso non schiaccio invio attenzione che dovete schiacciare invio non basta andare da un'altra parte col mouse dovete proprio esplicitamente schiacciare invio nel momento in cui si usciate invio questa casella avrà due nomi uno è e5 e l'altro è casella che uso spesso e nelle formule potrebbe usare casella chiaramente casella che uso spesso è un nome scemo ma ad esempio interesse o valore di cambio o aliquota sono tutti nomi che possono essere molto utili attenzione a non dare lo stesso nome in fogli diversi che crea un casino totale intergalattico adesso schiaccio esc devo schiacciare invio per dargli il nome ufficialmente questo potrebbe essere una cosa un po' strana perché normalmente in excel basta andare via cioè basta schiacciare qui invece vedete è sempre e6 e5 non ha preso il nome se avessi schiacciato invio avrebbe preso quel nome ok se per caso avete dato dei nomi e poi cambiate idea qui andando nel ribbon o nella barra come si chiama? barra multifunzione formule c'è definisci nome e qui potete gestire tutti i nomi che avete dato facciamo proprio l'esempio dai pippo 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 questo l'ho chiamato invio andando in avanti questa cella si chiama sia e5 che pippo pippo cambio idea definisci nome definisci nome scusate ovviamente era in gestione nomi non era in definisci nome gestione nomi e abbiamo abbiamo pippo pippo eccola come vedete io ho già dato degli altri nomi ah è pieno di schifezze sto file adesso facciamo pulizia già che ci siamo approfittiamo per fare pulizia di tutte queste schifezze via battiamole via tutte in blocco ok eliminato tutti i nomi che c'erano nel file salviamo ok benissimo e se non vi ho annoiato con questa cosa qui adesso vi annoio con le opzioni attenzione il formato dei numeri noterete qui che il mio formato attuale utilizza il punto come separatore decimale magari uno di voi non lo vuole vuole usare la virgola allora dove si può impostare questa cosa qui di solito excel eredita questa cosa dal sistema operativo quindi se il vostro sistema operativo sapete è uno dei parametri del sistema operativo se non lo sapete scrivete nei commenti il nome del vostro professore di informatica all'università è uno dei parametri del sistema operativo ok quindi lo eredita da questo se volete cambiarlo per windows si fa così file opzioni qua sotto ok in bucato nel posto di solito più difficile da trovare c'è vediamo vediamo ecco qui impostazioni avanzate non capisco perché è una roba base impostazioni avanzate vedete utilizza separatore di sistema ok in questo modo vuol dire che eredita quelli di windows se lo togliete potete impostare qual è il separatore decimale separatore delle migliaia ok chiaramente uno è il punto e l'altro è la virgola o viceversa non fate rovvizzare tipo uno è il diesis e l'altro è il cerchietto perché se no non capite più una mazza ok ad esempio adesso io potrei impostare separatore decimale la virgola e delle migliaia il punto ed ecco che istantaneamente come per magia papam tutti con la virgola vedete perché per Excel i numeri li memorizzano nel suo formato speciale non è che memorizza punto o la virgola quello mi ferrà niente ok vedete adesso mi ha preso il formato diciamo europeo sembra una banalità ma sapete quante volte si sbatte la testa importando i dati lo vedremo già in questa lezione sbattere la testa importando i dati su questa su questa cavolata ora purtroppo sul Mac fino a qualche anno fa non si poteva fare come dicono a Bolzano e Stutmir Lied non si poteva fare quindi sul Mac se volete cambiare i separatori dovete cambiare tutto il sistema operativo è comodo cambiare solo a Excel perché tipicamente magari se scrivete in Word volete o non so dentro il browser volete che la virgola sia il vostro sistema operativo magari state lavorando lavorando su dati americani e quindi per evitare la sega ogni volta il punto della virgola e volete impostare solo per Excel l'inverso vabbè sul Mac mi spiace fino adesso non so magari se adesso si può lode a chi lo ha programmato benissimo andiamo a vedere i tipi di numero di casella ogni casella contiene cose che sono tipizzate vuol dire che devono essere di un tipo ben preciso non è che per me c'entro quello che ti pare voi dite ma come io ho sempre digitato in Excel quello che mi pare eh sì un attimo ma andiamo qui premiamo questo a meno menu qui e vedete praticamente ci sono queste barre questa barre ha molte funzioni è separata in sezioni e molte sezioni hanno questo bel menu qui a cosa serve questo piccolo apparentemente inutile tastino a cosa serve serve a portare a far riesumare il vecchio la vecchia finestra di dialogo che era utilizzata fino al 2003 voi direte roba vecchia ma che è una delle robe migliori di Excel queste finestre di dialogo non capisco perché le abbiano imbucate con questi mini tastini ora voi potete scegliere il tipo da qui ma a noi che siamo utenti già pro cioè già con queste nozioni siete più avanti dei vostri colleghi le impostiamo da qui che è più bello tacchete e arriva la nostra finestra di dialogo ho versioni vecchie di Excel per Mac quindi se avete Excel per Mac versioni vecchie dovete andare sul menu formato e scelzionare celle versioni nuove invece hanno questo a meno allora vediamo a parte questioni estetiche vi dirò che in questo corso tratterò pochissimo questioni estetiche perché secondo me se voi volete delle belle tabelle non dovete usare Excel vi fate tutti i conti in Excel e la portate in Word se invece volete le tabelle in Excel secondo me devono essere funzionali e non belle quindi questioni estetiche ne farò pochissime quindi tutti questi allineamento carattere bordo riempimento protezione non si fa protezione si farà ma gli altri non si fanno invece numero è molto importante numero vuol dire cosa c'è dentro la cella generale vuol dire lui dice non hanno un formato numerico specifico falso come Giuda vuol dire che ce l'hanno però decide lui lo decide lui questa cosa lo decide lui può essere rasentare il pericoloso dopo vedremo qualche pericolo a farlo decidere lui numero numero chiaramente ci sta dentro un numero ora normalmente il numero è scritto in nero e col meno davanti se è negativo potete selezionare questo o meno per mostrare il separatore delle migliaia utile se i numeri cominciano ad essere grandi e questo per decidere quante posizioni decimali selezionare i default la stessa opzione è qui qua sopra ok faccio notare che c'è anche la versione in cui i numeri negativi sono rossi e c'è anche la versione in cui adesso lo dico sottovoce perché sto parlando male di qualche collega i numeri negativi sono rossi e non hanno il segno meno questo perché soprattutto in contabilità c'è una fobia per il segno meno io non ho capito perché in contabilità non vogliono vedere il segno meno quindi magari vogliono vedere i numeri rossi perché sono negativi misteri della contabilità bene valuta non serve assolutamente a niente è esattamente identico al numero ma un simbolo della valuta che tra l'altro non capisco perché in tutti gli Excel che io abbia mai avuto in tutta la mia vita è il simbolo della sterlina mistero la perfida albione ci ha messo lo zampino comunque se volete poi potete mettere l'ero però è solo una questione estetica e per Excel questo qua alto non è che un numero cioè per Excel questo è un numero quindi non è che è una valuta non aspettatevi che se mettete sterline e poi passate a dollaro vi cambia e ve lo aggiorna in base al cambio no per lui è la stessa cosa ok contabilità anche questo è esattamente identico ok salto in data ruola le vediamo dopo percentuale percentuale è una percentuale appare automaticamente il simbolo di percentuale decidete le posizioni decimali ora frazione io non ho mai visto nessuno sano di mente che lo abbia utilizzato ok vabbè se proprio volete esprimere in frazioni considerate che se mettete 1 barra 2 è proprio 0,5 per xl scientifico rarissimo da utilizzare è la notazione scientifica quella con le potenze di 10 testo vuol dire che è testo quindi contiene del testo questo è importante perché è una cella che contiene testo anche se sono dei numeri ma se sono in formato testo non c'è verso di farci operazioni matematiche sopra mi capita abbastanza spesso di vedere qualcuno mi chiama perché non riesce a far funzionare le formule e io vedo che un'intera colonna è settata in formato testo anche se contiene numeri quella è una disgrazia totale anzi questo è un altro ottimo scherzo che potete fare i colleghi già siamo arrivati penso a quota due scherzi ai colleghi gli impostate una colonna in formato testo non gli funziona più nessuna formula e non capirà mai il perché ok quindi attenzione al formato testo perché potrebbe essere pericoloso vediamo cos'è speciale che me lo chiedo anch'io ecco non voglio saperlo personalizzato facciamo prima data e ora dai data data contiene le date voi direte ma a me si vedono diversamente rispetto a lei professore che sarei io professore anche perché non ho capito a me vedete io ho perché io ho le date impostate in inglese regno unito ecco qui spiegato il motivo per cui ho la sterlina se lo spostiamo in hawaiiano vedete ecco che ho poca lulu 14 malacchi 2012 ok quindi mettiamolo in c'è in italiano irlandese italiano italiano svizzera ecco qui queste sono quelle che secondo excel sono i tipici formati di data che si vedono attenzione che per excel tutte ste robe sono uguali cioè che excel vi mostri 2012 314 o che vi mostri 14 marzo lignetta 12 o m12 per lui è sempre la stessa data di sotto sotto c'è la stessa data e lo vedremo tra poco ora ora l'ora in excel è inutile perché perché anche se voi impostate un'ora per excel comunque c'è la data cioè anche se io gli dico vedrete adesso ve lo faccio vi dito le 15 e 30 per excel quella cella non contiene 15 e 30 contiene le 15 e 30 di oggi non ci credete vediamo subito guardate adesso mi sbizzarrisco sul vuoto io scrivo 15 2.30 questo me lo dovrebbe riconoscere come ora al momento è generale qui eh quindi generale vuol dire che cerca di indovinare me l'ha indovinato correttamente come ora l'ha lasciato personalizzato è uno mettiamolo ora dai ora dove è ora ecco 15 e 30 ok benissimo però vi assicuro che è oggi non ci crediamo oggi è il 15 maggio 2024 alle 15 e 30 ok e a questo punto gli dico che differenza c'è tra questo e questo mi calcolo in questo modo la differenza in giorni l'ho convertito in numeri ed ecco che mi devo subito smentire se voi digitate 15 e 30 non sono le 15 e 30 di oggi ma sono le 15 e 30 del primo gennaio 1900 infatti se qui metto 1 1 1900 per Excel nulla esiste prima del primo gennaio 1900 meno 1 no quindi sono le 15 e 30 del 2 gennaio o dello 0 gennaio Excel se è tutto rinciturito ok sono le 15 e 30 dello 0 gennaio quindi dell'ultimo giorno dell'800 questo non voleva essere questo perché sarà un argomento di un'altra lezione le date perché sono molto molto precise però per farvi capire non usate il format ora perché per Excel è il 31 dicembre del 1899 cioè fate solo un gran casotto quindi il format ora per piacere abbiate la compassione non utilizzatelo quindi i formati da utilizzare sono prevalentemente numero valuta se poi volete estetica data percentuale gli altri si usano veramente rarissimi ok vediamo un po' normalmente si lavora in formato generale adesso seleziona la colonna A tasto destro elimina per pulirla completamente adesso scrivo un po' nella colonna B normalmente si lavora in formato generale se voi scrivete 23 lui lo capisce 23,6 lui lo capisce e da cosa capisco che lui lo ha capito lo capisce perché me li sta allineando a destra Excel automaticamente se ha capito che è un valore numerico o di data lo allinea a destra se ha capito che è testo lo allinea a sinistra facciamo un altro esempio 23,6 attenzione che io gli ho detto prima che il mio separatore decimale era la virgola quindi 23,6 non ha senso me l'ha allineato a sinistra perché per lui questo è testo se invece metto 23,600 lui probabilmente questo me lo interpreta come 23,600 vediamo non lo so neanche io ammetto sì l'ha allineato a destra vedete voi da dove ve lo allinea capite vedete che anche qui c'è il numero apparso ok quindi attenzione quando scrivete roba attenzione Excel è molto anche creativo ad esempio se scrivo virgola 23 anche senza lo 0 lui dovrebbe capirlo 0 se scrivo attenzione questo è il top aperta parentesi 24 chiusa parentesi questo per Excel è meno 24 non ci credete ecco che guardate me l'ha convertito automaticamente in meno 24 quindi se lavorate in formato generale dove si lavora di solito nel 99% dei casi attenzione che Excel è abbastanza creativo con le interpretazioni infatti se volete fare le cose fatte per bene se su una colonna sapete già che ci mettete numeri selezionate la colonna e gli dite prima guarda io ci voglio mettere qui i numeri e quindi Excel non sbaglia ok quindi Excel riconosce i numeri in questo modo splendido le valute basta buttarci un simbolo di valuta ad esempio ci butto il simbolo dell'erro ok me l'ha riconosciuto se ci butto il simbolo del dollaro me lo riconosce no perché gli ho detto che la mia valuta è l'erro no gli ho detto che la mia valuta è la sterlina simbolo della sterlina ce l'ho sulla tastiera sì guarda un caso ora adesso Xcaro Excel ora Caro Bill Gates so che non te ne occupi più da tanto tempo lo capisco però secondo me sta roba l'hai programmata tu mi spieghi perché la mia valuta è la sterlina e se io metto l'erro me lo riconosce ma se metto la sterlina no ah Caro Bill il 77 euro sono anche per te che puoi prometterteli benissimo quindi la valuta abbiate la compassione la valuta non utilizzatela fate tutti i conti senza le valute se poi proprio volete presentarlo da qualche parte il foglio e volete che siano belle evidenti le valute le mettete dopo quindi fate tutta la colonna di numeri dopodiché selezionate e dite altri formati numeri dov'è valuta valuta selezionate la valuta giusta e ok ok e adesso passiamo alla spina nel fianco come Excel riconosce le date attenzione perché normalmente io le date le scriverò sempre così 3 anzi 3 no è un brutto numero 22 del 3 2025 questo è il 22 marzo 2025 invio le metto la barra Excel me lo riconosce ok che scriva 0 3 o 3 è uguale ok ora il mio Excel mi prende giorno mese anno non escluderei che ci siano degli Excel che prendono mese anno giorno auguri quindi io di solito quando faccio gli esempi tenderò a fare sempre 8 agosto 2024 così non abbiamo dubbi ok oppure tenderò a fare sempre appunto come ho fatto adesso il 22 marzo non farò mai il 7 marzo 2024 2025 perché poi non sappiamo mai se è il 7 marzo o il 3 luglio ok perché c'è questa mania per chi non lo sapesse in America di girare il mese con il giorno va bene e ok ma Excel fa di peggio se io metto l'anno a due cifre me lo prende regolarmente attenzione però perché come ha fatto Excel a sapere che il mio 24 vedete lui me l'ha convertito in 2024 è un 2024 e non un 1924 perché Excel per Excel il mondo è iniziato nel 1900 e vediamo fino a che punto si spinge scusate 2 anzi 22 del 7 e io scrivo 55 secondo voi questo è 1955 o 2055 1955 22 del 7 44 1944 fino a che punto arriva ma allora Excel scusa è 30 ah guarda un po' per Excel se scrivo 30 è 1930 non 2030 scusa è 22 del 7 29 a questo 2029 quindi abbiamo imparato che se mettete l'anno a due cifre fino a 2029 è 2000 prima è 1900 altrimenti dovete scriverlo per intero abbiamo imparato una cosa nuova anch'io ma Excel è molto più creativo voi potete scrivere 22 lignetta 7 lignetta 2025 Excel dovrebbe capirlo dico dovrebbe l'ha capito vedete me l'ha convertito automaticamente potete fare anche robe più creative 22 giulai giul 2024 ora io avendo impostato in italiano ho l'interfaccia in italiano la lingua inglese vediamo cosa capisce me l'ha capito giusto vedete lui mi mostra 22 giul 25 ma se vado sopra qua sopra scrive 22 7 25 e se lo faccio in italiano lug 2025 no in italiano se ne infisca perché la mia lingua è impostata in inglese cioè la lingua dell'interfaccia in italiano ma la lingua di Excel in inglese probabilmente voi se fate l'UG ve lo capisce ok c'è di peggio c'è di peggio se vi faccio giulai 2025 voi direte manca il giorno non può capirlo e invece no invio l'ha capito è andato a destra vedete è andato a destra vuol dire che è stato riconosciuto come valore ci vado sopra guardate qua sopra primo luglio 25 quindi se voi non specificate il giorno è per default il primo se voi non specificate l'anno ad esempio 7 luglio è per default l'anno attuale quindi 2024 certo non specificare né anno né giorno vediamo non penso che capisca infatti non capisce poverino ha delle limitazioni e qui adesso viene l'apoteosi del casino se io indico tre lignette a cinque ora tre lignette a cinque nella mente normale di una persona non è il 3 maggio né il 5 marzo ma è da 3 a 5 tipicamente magari immaginate una tabella l'intestazione avete da 1 a 2 da 3 a 5 ecco se però io scrivo l'alternette a 5 premo invio e sono in formato generale quindi sto dicendo Excel fai tu ecco qui 3 maggio 3 maggio quindi particolare attenzione per quello vi ho detto di solito è meglio se siete già sicuri che ci mettete date selezionare e dirgli guarda ci metto la data data estesa o data in cifre io di solito preferisco la data in cifre me la seleziono sempre in questo formato qui quindi 2 2 4 con l'anno in 4 cifre e sono sicuro perché c'è questo questo anghippo qui che 3 maggio poi vediamo un altro tipo tutto ciò che comincia per uguale non si può scrivere quindi se per qualche motivo vi volete scrivere del testo e quel testo comincia per uguale non potete farlo perché quello comincia per uguale per Excel è una formula quindi non sognare proprio non c'è verso vedremo dopo un trucco ma non funziona sempre e beh un trucco l'abbiamo già visto della verità io adesso vi scrivo questa uguale ci metto supponiamo che debba scrivere sta roba se tento di fare invio lui mi dice mi dà un errore perché lui pensa che sia una formula faccio doppio clic ok se io proprio insisto potrei dirgli guarda la colonna G contiene testo questo ripeto forzare a testo una colonna è pericolosissimo perché vuol dire che in quella colonna nessuna formula funzionerà quasi nessuna formula funzionerà quasi nessuna formula matematica funzionerà più testo adesso dovrebbe prendermelo ecco vedete ok adesso per piacere io la colonna G la distruggo perché non voglio avere neanche una colonna con solo testo ok però attenzione tutto quello che comincia per uguale è una formula e invece tutto il resto quindi non appartiene a questo mondo quindi Excel non è riuscito a capirlo come data o come numero e c'è anche la percentuale scusate beh la percentuale è facile 24% tac se scrivo 24 sono due cose diverse queste due 24 e 24% percento vedete l'ha riconosciuto come percentuale tutto ciò che non appartiene a questo nuovo mondo e non inizia per uguale è testo viene lineato a sinistra automaticamente e quindi testo è tutto il resto sostanzialmente ci sono dei casi in cui io voglio che qualcosa venga riconosciuto come testo anche se Excel si ostina a riconoscermelo come formula o come numero ad esempio 3 lignetta 5 dell'esempio che abbiamo visto qui in questo caso il modo per forzare è selezionare prima la cella e dirgli che è testo oppure mettere l'apostrofo trucchetto quindi apostrofo 3 lignetta 5 vedo proprio metto l'apostrofo se metto apostrofo 3 lignetta 5 e premo invio l'apostrofo non si vedrà tuttavia esiste esiste attenzione quindi fa parte della cella invio vedete l'apostrofo non si vede tuttavia qui nella barra della formula appare l'apostrofo però io vedo comunque 3 lignetta 5 e me l'ha allineato a sinistra oppure questa cosa apostrofo uguale a 2 questa è una formula valida se non avesse l'apostrofo con l'apostrofo lui mi mostra a 2 quindi o forzate a testo qui oppure ci mette l'apostrofo attenzione ripeto mettere l'apostrofo comunque c'è l'apostrofo adesso la cella g11 contiene apostrofo uguale a 2 se chiedete quanti caratteri è lunga vi dirà 4 spero verifichiamo subito scusate lunghezza lunghezza è una funzione per dirmi quanti 3 niente cancello tutto basta mi dimetto il corso è chiuso mannaggia l'apostrofo non lo considera ma brutto questo mi causa dei problemi però vabbè non voglio sapere ok l'apostrofo non lo considera ok mi smentisco questo è un corso anche per me e adesso vediamo i tipici errori quando si fa inserimento dati a mano batto via tutte queste colonne quindi le seleziono non basta fare cancella contenuto bisogna fare prelimina disintegrare le colonne ok disintegrate chiaramente si ricompattano e non è che ne avete perse dall'altra arriva sempre alla xfd ok xfd sembra quasi dei cfd ok benissimo i consigli che io vi do sono primo consiglio se possibile usate il tipo di colonna prima di inserire dati non dopo ok fate attenzione a quello che xfd capisce soprattutto le date e fate attenzione alle percentuali perché sono da mezzo suicidio perché supponiamo che io abbia una bella colonna con i tassi di interesse una bella colonna con i tassi di interesse e qui ci metto i tassi di interesse 2% 2,5 sto facendo ad esempio un'analisi sui conti deposito 3,2 0,5 ok dopo devo fare dei calcoli con questi tassi di interesse quindi dico ma accidenti sono dei tassi di interesse quindi sono percentuali e a questo punto l'idea geniale prendo la colonna e gli dico che sono percentuali ecco idea geniale idea del perché attenzione gli dico che sono percentuali e guardate cosa mi fa 2 è diventato 200% perché in matematica 0,5 è 50% e quindi a questo punto a manina c'è anche un modo per farlo automatico lo faremo ma per adesso a manina io devo scrivere 2,5 ok quindi se invece gli dite prima che sono delle percentuali a questo punto siete a posto perché scrivo 2 guardate ho digitato money adesso digito 3 un tasto solo 3 e vedete c'è già apparsa la percentuale invio ok quindi attenzione le percentuali perché fa potete fare un gran casotto non sapete quante volte ho trovato quante volte prendo i fogli di altra gente e vedo le percentuali scritte così scritte così anzi no scusate le avevo già convertite qui adesso faccio undo undo ah qua sopra c'è l'undo questi due voi probabilmente non ce li avete li ho messi io però questi due ce li avete di sicuro undo e redo spero ditemi se non ce l'avete ok ecco qui quante volte ho visto percentuali scritte così e poi le bestemmie la formatazione speciale la formatazione speciale personalizzata devo dire si usa raramente si usa quando volete fare impressione sul vostro capo e dirgli eh guarda gli altri che paghi il doppio non riescono a farla quindi già tre modi per danneggiare i colleghi nello stesso video ecco questa formatazione vediamo subito come si ottiene ad esempio mi prendo la colonna F vado qui solita finestrella speciale personalizzato ok qui riconoscete il vostro intuito informatico dovrebbe guidarvi zero vuol dire che qualunque numero ci scriviate gli vengono troncati i decimali 0,00 non vuol dire che mette degli zeri vuol dire che forza due decimali volete forzarne otto tre, quattro, cinque, sei, sette, otto voi mi direte perché mai dovrei fare così quando c'è comodo, comodo direttamente il bottone prima perché ci sono altre cose che potresti voler fare più elaborate questi non chiedetemi a me cosa siano penso che forzi boh uno zero uno cifra decimale dopo lui dopo le prime due boh non lo so e questo vedete forza il colore rosso e il segno meno forza la forza la valuta potreste anche impostare potete comunque penso che siano self explanatory come dicono gli inglesi vedete ad esempio date e ore mescolate quindi la data con l'ora la data con l'ora i minuti e i secondi oppure non i secondi neanche i minuti la data con solo l'ora ok di solito la tripla m è il mese scritto in lettere e la doppia m è il mese scritto in numeri e c'è anche una differenza no e poi come vedete qui c'è da sbizzarrirsi se volete delle delucidazioni sicuramente questi punti di domanda punti di domanda chiaramente c'è l'help in linea sempre vediamo se arriva entro dopo domani eccolo qui c'è l'help in linea che no l'help in linea che non ti spiega una ma ecco personalizzato vediamo l'help in linea ci dice anche come funzionano questi formati no niente c'è l'help in linea che non ti dice una mazza di niente comunque allora google is your friend comunque diciamo che io per l'utilizzo che dovevo farne sono sempre riuscito a farmela a sbrigarmela da solo con vedete c'è anche queste cose bizzarre qui bene ok questo è tutto la prima lezione si conclude qui ma attenzione che non è finita un attimo innanzitutto un spoiler sulla seconda lezione nella prima lezione abbiamo visto come mettere i dati a manina a manina cioè con le vostre mani sante nella seconda lezione vedremo come metterli in maniera più automatica o importandoli da fuori oppure creandoli automaticamente so che le prime lezioni sono noiose dalla terza dovremmo iniziare con le formule però insomma ricordate che questo è da base 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 a più bravi dei vostri colleghi e adesso l'ultima cosa la più importante e non sto scherzando sulla più importante sono i compiti ebbene sì ogni lezione è corredata di compiti anche la lezione 1 aveva i compiti ma non ho avuto il coraggio di mostrarveli ve li ho messi anche per iscritto di modo che non ci siano fraintendimenti qui e vi ricordo che se non fate i compiti non potete andare avanti sulla lezione successiva adesso che proprio youtube ve lo impedirà ok preparato l'eserciziario verrà aggiornato di volta in volta ve lo fornirò in pdf come se mi ricordo come prima riga della descrizione e chiaramente sarà sempre lo stesso quindi se guarderete questa seconda lezione tra 8 mesi troverete l'eserciziario anche tutti gli esercizi successivi poi a fine a fine corso faremo degli interi esami diciamo ne ho tantissimi quindi non c'è problema ecco nel frattempo vi comunico anche che il corso è in corso un sondaggio siamo al 17 maggio è in corso un sondaggio sul nome del corso io l'ho chiamato educati e casellati ma a quanto pare la gente preferisce e dico a lunga educati e incasellati anche educati e incolonnati mi piaceva è anche educati e formattati però temo che il nome poi sarà educati e incasellati benissimo gli esercizi che vi do sono sempre banali perché sono esercizi diciamo di fissare i concetti che avete appena appreso però il problema che vanno fatti senza alcun dubbio vuol dire se avete dei dubbi male molto male senza chiedere a google e senza chiedere all'intelligenza artificiale cioè se avete bisogno di google malissimo cioè vuol dire che non avete appreso bene la lezione e se avete dei dubbi anche male vanno fatti proprio così e non sto scherzando vanno fatti così veramente istantanei e poi l'esame finale vi darò 30 minuti per farlo non di più ok quindi chiunque riesce a risolverli agilmente avendo tanto tempo scopo è riuscire a farli velocemente perché è questo che dovete fare cioè dovete stare in ufficio e mentre il vostro collega ancora lì che digita sulla tastiera così voi dovete zack a razzo ok lezione 1 il compito install Excel ok lezione 2 duplica duplica un foglio non vuoto adesso ve li leggo per la prima volta poi magari li do senza leggerli sono gli stessi banali vedete duplicare un foglio non vuoto posizionarli in testa rinominarlo questi due ammetto che potrebbero essere un filo proprio un filo ma un filo è challenging diciamo è sul formato personalizzato e last but not least siccome il file magari lo volete salvare anche se io non vi consiglio di salvare il mio file perché io lo riapro ogni volta pulito diciamo però se il file lo volete salvare torniamo qui file nelle opzioni normalmente Excel per default quando salvate un file ha la bruttissima abitudine di cercare di salvarvelo su OneDrive soprattutto se avete un account aziendale ecco abbiate con passioni io per anni ho bestemmiato non sapete non sapete quanti studenti ho bocciato perché hanno perso il file durante l'esame perché? perché l'hanno infilato su OneDrive bravi complimenti continuate così allora file opzioni ok c'era da qualche parte ecco qui salvataggio salvataggio automatico di file archivati nel cloud non ci penso nemmeno ok vediamo 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 ecco vedete salva nel computer per impostazione predefinita consiglio e sceglietevi una directory di facile accesso ok altrimenti se usate un file nuovo lui per default cerca di salvarlo nel cloud e ogni volta sobbestemmie perché ci sono eccezioni salvataggio automatico vabbè ok ok benissimo direi che abbiamo detto tutto alla prossima lezione ma prima c'è la sigla tranquilli non la metterò sempre solo ogni tanto ti piacerebbe vero puntare tutto su bonde esordi ci far finta ad essere educato e finanziato ma poi affidarti alla roulette ti piacerebbe vero sapere quanto ti serve per smettere di lavorare a negare tra fogli di calcolo e righe di python confonderti tra i soldi degli altri allora non fare il pignolazzo e unisciti agli altri 50k unisciti agli altri 50k